Una donna di 45 anni è stata trovata priva di sensi questa mattina in acqua nei pressi di una spiaggia di gabice mare. A soccorrere la signora in un primo momento sono stati i bagnini di salvataggio che l'hanno trasportata a riva. Subito dopo sono stati allertati i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare la signora attuando le manovre e massaggio cardiaco. I tentativi di rianimazione non sono serviti in quanto poco dopo la 45enne è deceduta. E' stata chiamata anche l'eliambulanza. Sono sconosciute le cause che hanno portato al decesso della signora. Si ipotizza un infarto o malore. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili di gabice. Sconosciute le generalità della donna, alcune fonti confermano che insieme c'erano marito e il figlio di 11 anni.